buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale ma ragazzi abbiamo oggi abbiamo giocato la partita contro la regina a granillo partita terminata 1 a 0 a favore della regina che di primo tempo assolutamente inguardabile per il pisa fotocopia del vicenza né più e nemmeno fotocopia del vicenza io voi pensate che oggi ma io oggi non mi arrabbio mi arrabbia assolutamente perché l'avevo già messo un conto di perdere che l'avevo già detto anche a miei amici noi dico andiamo la che bene bene se ci va prendiamo un punto e se non manco questo e così è stato ma perché no ma perché sennò voi poi voi mi prendete per bobolatore ma è sotto gli occhi di tutti è la cosa io comunque voglio mettere un post subito di michele di bufalino voi sapete che io michele io per michele ho il massimo rispetto e questo ha scritto michele e secondo me rispecchia fondamentalmente quello che volevo dire io ma ha detto un primis lui quindi un pisa in palpabile e riconoscibile soprattutto nel primo tempo viene battuto nella trasfetta di reggio calabria la prima frazione è infatti quasi completamente regalata dalla squadra di d'angelo che subisce per oltre mezz'ora il gioco dei padroni di casa il gol del vantaggio granata è un regalo di nazi e le verbe quindi nazi sbaglia le verbe scivola e me ne se ne approfitta col primo che regala palla il secondo che scivola in aria giustamente prima conclusione dei razzurri al 32esimo ma per vedere il primo tiro nello specchio della porta bisogna aspettare addirittura il secondo tempo nella ripresa dei razzurri se la giocano ad armi pari trovando anche una traversa con touré e insistendo per trovare il pareggio con l'inserimento di un attaccante in più non serve a niente perché la regina si difende ordinatamente e porta a casa i tre punti il pisa scivola al quinto posto questo questa è la partita dobbiamo aggiungere qualcosa se io sicuramente non avrei messo in campo questa formazione ma io sono io come dicono tutti amati non hai il tesserino poi a coverciano vabbè d'accordo io non ho il tesserino andrò a coverciano non ci vada a coverciano perché non mi interessa che non mi interessa fondamentalmente a me quello che mi interessa è il bene del pisa poi ognuno la può pensare come vuole ma sicuramente sulla destra è stato un disastro no o no è stato un disastro perché abbiamo avuto coin touré e ben indipendentemente che che touré abbia poi spizzato di test e presa la traversa ma è stato un disastro no masucci ha fatto quello che ha potuto poi è uscito caracciolo e ha inserito ha già fatto bene ecco l'unica cosa che ha fatto giusto è stata quella di mettere luca poi tanto giochi il tutto per tutto a quel punto per di 1 a 0 per di 2 a 0 non cambia ma non si è riuscito non riesci un pisa che non riesce a fare gol nel primo tempo pisa che non ha fatto niente cioè non è riuscito a mantenere il centrocampo quindi quando te va in sofferenza il centrocampo di conseguenza va in sofferenza all'attacco normale mentre all'andata non era così centrocampo era solido te non avevi magari la punta d'accordo ma centrocampo era solido e quindi te avevi la possibilità di segnare e di mantenere il risultato non ce la fai neanche a far quello non ce la fai più perché ora ti manca anche il centrocampo poi turnover i destra nel cambio stravolgo i ragazzi non si trovano nei passaggi non si trovano e si vede che nel primo tempo l'abbiamo visto chiaro no se uno se uno agli occhi poi se vogliamo mettere ci vogliamo dappare gli occhi a me va bene tutto è sia chiaro sempre forza pisa questo è normale però la situazione è questa né più né meno quindi non è che qui non ci tocca nessuno ma per l'amor di dio io non voglio toccare niente nessuno se va bene a voi va bene anche a me o meglio va bene a voi a me forse mi va mi va un po stretta però va bene anche nella conferenza stampa io mi metto il link sotto mi metto il link e c'è gli occhi rossi d'angelo ma non è il discorso gli occhi rossi oppure dire oppure dire no perché le partite non si giocano più 90 minuti ma bene bene 45 gioco spezzettato ma la regina ha fatto il suo gioco fammi fammi capire la regina ha fatto il suo gioco ma cosa volevi che facesse fatto il suo gioco ha spezzettato e alla fine si è portato a casa tre punti questo è questo è quanto questo è quanto capito né più e nemmeno cosa volevi che facesse la regina fammi capire già fatemi capire ma cosa vuoi che poi regina ha fatto il suo gioco né più e nemmeno se te che hai stravolto la situazione all'inizio e sofferto per 45 minuti hai praticamente sofferto per 45 stessa te stessa partita di quella che hai giocato con il vicenza basta cioè questo è il discorso coverciano tesserini non coverciano questo è quanto è questo è quanto ne più e nemmeno abbiamo perso abbiamo perso tutto lì poi uno va a coverciano ma sono discorsi che voglio dire riporta via al vento è questo 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 è quanto comunque sia io quello che dovevo dirlo detto cioè nel senso io ma scendesse in campo già scendesse una volta conferenza stampa il mister dire no ho sbagliato io sarei più contento e vabbè alla fine ha riconosciuto l'errore invece non si fa nemmeno quello si va a cercare chissà cosa oggi oggi si va a cercare gli spezzettamenti di gioco va bene ci saranno stati anche gli spezzettamenti di gioco però se te scendevi in capo con una formazione adeguata perché il discorso sta in questi termini qua siamo siamo eravamo eravamo perché oramai non lo so siamo alle porte cioè nel senso che butti via tutto no facendo così butti via tutto comunque la classifica siamo a 46 punti quinti perché il benevento è vero che a 46 ma a differenza rete o comunque le sconti diretti scusate è sopra sconti diretti comunque sia partite insomma è sopra va bene o non andiamo adesso a vedere come quando è sempre presto poi troviamo un breccia 48 una cremonese e un lecce a 49 te oggi se vincevi a 49 e non avevi da andare a recriminare niente a nessuno pisa che non segna un pisa che non riesce più a fare gol un pisa che butta via le occasioni puskas che butta via la palla dell'1 a 1 ma non solo lui torregrossa ha fatto un bel tiro vabbè è così quindi cosa cosa pretendi cosa vuoi cioè ti svegli a dopo dopo fare le sostituzioni quando già quando te già hai visto nel primo tempo che la squadra così non girava quindi secondo me avresti dovuto porre il rimedio prima avresti dovuto porre il rimedio prima perché ti giochi una serie a diretta non ti giochi una salvezza ti giochi una serie a diretta o non sei al centro classifica vabbè se ci vado ci vado proprio se non ci vado facciamo no sei lì sei in una fase e te ti metti a proviamo a fare questo proviamo a fare quell'altro turnover tutti belli tutti bravi d'accordo va bene va bene a tutti va bene anche a me per l'amor di dio io questo video la finire qua per tanto è inutile io vi ricordo che domani c'è la trasmissione noi siamo nero azzurri mi raccomando partecipate numerosi perché a questo punto fa piacere anche sapere cosa ne pensate voi mi raccomando lasciate lasciate commento lasciate il commento sotto fa piacere sapere cosa ne pensate niente che dire è così c'è niente da fare ragazzi e purtroppo siamo 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 in questa questa situazione non se ne esce pensa che non riesce più a segnare non lo so non trova non trova le idee giuste a destra giusta ma non lo so forse perché qualcuno turn over non turn over io a questo punto non so più che dire cioè nel senso basta perché tanto è inutile poi se no apriti se sempre il solito allora sai che sai che c'è va bene così bene voi bene anche a me va bene a tutti e siamo a posto così beh per questo video io la finisco qui se vi è piaciuto questo video pollice su mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io ricordo una cosa domani c'è la trasmissione mi raccomando numerosi alle 21 e 30 noi siamo nero azzurri beh il pisa resta e tutto il resto passa a domani